Alessandro Pescara, amministratore delegato di Borbonese, che accolgo. Passo la parola ad Alessandro Pescara, amministratore delegato di Borbonese. Ecco, qui abbiamo parlato di un'azione organica, di un'azione anche a cascata, quindi si parte da qualcosa di specifico e poi si vuole invece diventare ben organizzati e compatti in questa azione. Poi abbiamo parlato anche di certificazioni, perché sostenibilità è anche questo. E allora chiedo ancora, qual è il percorso intrapreso e quali sono le certificazioni che ad oggi potete raccontare? Allora, grazie mille per avermi invitato e per aver invitato il brand qua. Allora, prendo spunto da quello che avete detto prima. Quello che ha detto lei, l'ambito valoriale. Tutto parte da un ambito valoriale. E quello che ha detto il dottor Uva prima, da un ambito strategico. Cioè sono due logiche molto importanti per non andare a random in un percorso, quello della sostenibilità, che è un percorso molto complesso, molto difficile e poco regolamentato ancora fino ad oggi. Diciamo che l'evoluzione, io sono entrato in azienda nel 2018 e ho incominciato a parlare di sostenibilità. L'epoca mi hanno quasi preso per matto. Anche perché io, Borbonese, in un segmento, quello del lusso accessibile, dove il prezzo è molto importante, quindi è molto price driven il consumatore e diventa importantissimo anche il percorso di pricing che tu fai e quindi l'expenditur che tu riesci ad avere. Quello che stava dicendo il dottore prima, cercare di regolamentare e creare un percorso strategico. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo iniziato con il bilancio di sostenibilità, che c'è servito per cercare di avere un assessment su chi eravamo, che cosa facevamo, non tanto come greenwashing o come deep service, come si dice, per avere un impatto di marketing, ma per imparare, per riuscire a capire esattamente che cosa siamo e dove stiamo lavorando. Abbiamo incominciato a parlare di sostenibilità di prodotto, che cosa significasse per noi, cosa significava avere un prodotto sostenibile o ecosostenibile. E ci siamo resi conto che durante questo percorso avevamo tanti lack, tante mancanze. Questo ci è servito per avere due temi fondamentali, l'analisi e il benchmarking, cioè capire esattamente dove siamo e che cosa stiamo facendo e vedere le best practice che stanno facendo gli altri per cercare di migliorare. Quindi cercare di creare un modello e quindi un'opportunità di evoluzione. Ci abbiamo messo un po' di tempo, ci siamo scontrati con una pandemia globale, con il covid, che devo dire però che ci è servito tantissimo in termini di evoluzione, sia come capitale umano, quindi all'interno dell'azienda, sia come in termini di responsabilità di utilizzo consapevole sia delle tecnologie che del prodotto. E quindi riuscire a capire che cosa significasse realmente regolamentare e regolamentarci e poter creare un percorso di sviluppo responsabile ed evoluto nel futuro. Da lì abbiamo incominciato. Non siamo tuttologi, non sono un tuttologo. Mi occupo di gestione aziendale, quindi ho cercato di portare all'interno tutta una parte di stakeholder che ci potessero seguire e servire nel processo evolutivo per insegnarci laddove noi avevamo delle mancanze. Partner che ci hanno creato un percorso di sostenibilità, andandoci a spiegare quale fosse la matrice della sostenibilità e quindi gli assetti materiali, che cosa era importante per noi e creare e metterli tutti all'interno di una filiera. E di lì in avanti abbiamo creato un percorso di evoluzione che ha portato delle soddisfazioni enorme. Sino all'anno scorso, devo ammetterlo, siamo riusciti ad ottenere otto certificazioni su due grossissimi sistemi di gestione. Uno, un sistema di gestione della qualità che ci ha visto arrivare a prendere la certificazione della 9.001, della 14.001, della 45.001. Quindi su tutto il processo del manufacturing, su tutto il processo di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e soprattutto sul processo di environmental friendly, quindi su tutto il processo di sostenibilità dell'ambiente che ci circonda. E dall'altro, un altro sistema di gestione molto importante che è la parte della diversity, diversity inclusion e parità di genere, che ne parliamo poco, ma ne stavo parlando prima, quindi tutta la parte delle pari opportunità, del razzismo, della possibilità di... Scusa, dalla regia mi dicono il microfono. Una nota di regia, grazie. E quindi tutta la possibilità di andare a sviluppare quelle che sono le diversità e quindi fare delle diversità un'opportunità all'interno dell'azienda. E tutto questo è nato attraverso un modello di business che si chiama 231, che è una regolamentazione più che altro di advocacy, non di advocatura, ma che serve, che ha una parte fondamentale che è il codice etico. E quindi mi riallaccia a quello che ho detto prima di ambito valoriale, perché senza un codice etico, senza riuscire a lavorare insieme con il team, non si riuscirebbe mai a ottenere niente di processo. Ed ecco che torniamo, abbiamo visto un Made in Italy, Made in Europe, valore, insomma, grande sforzo di cercare di creare un progetto organico e ovviamente poi realizzazioni, come quelle che sono state raccontate. A volte il numero, no, sembra, però 8 ci fa rendere conto di quanto comunque ci sia possibilità, se ci si applica nel modo corretto e perché no guardando all'etica. Dottor Pescara, ecco, abbiamo parlato tanto di digitalizzazione, parliamone qui, nella vostra esperienza, dove volete applicarla per rendervi competitivi sul fronte della sostenibilità? Allora, anche qui un percorso di evoluzione. Certo. Sono d'accordissimo con quello che ha detto prima, che le aziende non sono sostenibili oggi. È un percorso di evoluzione verso la sostenibilità. Quello che è stato fatto sino ad oggi è una corsa compulsiva con azioni di marketing per cercare di ingaggiare il consumatore nella spasmodica desiderio di cercare di aumentare le vendite. Ok? Perfetto. Dall'altra parte ci va un senso etico di civiltà e di capire esattamente dove siamo e che cosa vogliamo fare nel nostro percorso di miglioramento. Allora, diciamo che la tecnologia, l'evoluzione tecnologica e i device che stanno mettendo oggi in possibilità di utilizzo vengono in nostro favore. Nel senso, noi stiamo utilizzando due strumenti, uno è l'RFID e l'altro è l'NFC. Uno è uno strumento che lavora sulle antenne e uno strumento di tracciabilità. L'altro è uno strumento che può essere utilizzato come sia riempitore di contenuti ma dall'altra parte uno strumento che può essere utilizzato per interagire col consumatore e dare la possibilità di vedere e quindi riuscire a dare una tracciabilità e quindi essere trasparenti nei confronti del consumatore. Tutto questo in che ottica? In un'ottica di marketing, in un'ottica di consumer driven perché poi la finalità di un'azienda è quella di produrre anche reddito e quindi deve essere finalizzato verso un utilizzo responsabile delle risorse ma che possa, come stavamo dicendo prima, essere anche capito dal consumatore finale perché se al consumatore finale questo premium price poi non lo paga o non lo vuole pagare e non riesce a convertirlo poi diventano tutti proclami live service come si dice in inglese che non riescono poi a trasformarsi e a trasferirsi verso l'ottica del consuming. Allora, diciamo che questi due device danno la possibilità di lavorare su quello che è il nostro piano di sostenibilità quindi dall'eco design all'LCA e la carbon footprint che sono dei nomi, sono dei proclami. Ma qual è la logica in assoluto? Non è tanto la misurazione becera della CO2 o di quanto è perché tanto se io consumo e poi vado a comprare dei certificati verdi per dire compro i certificati verdi così posso consumare non serve a niente secondo il mio punto di vista. La logica che sto cercando di portare all'interno dell'azienda e che il team insieme a me sta cercando di evolvere è quella di partire col giusto mindset nella creazione del progetto cioè ogni singolo progetto che viene creato deve avere un'identità responsabile nei confronti della sostenibilità. Sostenibilità nella più ampia accezione del termine non sostenibilità solo focalizzata sul singolo prodotto che può essere l'utilizzo responsabile del cotone l'utilizzo responsabile della materia prima l'utilizzo del riciclo l'utilizzo del compostaggio l'utilizzo di determinate tipologie di trasformazione della materia che possano impattare sempre meno noi facciamo borse nella nostra filiera nella nostra analisi valoriale abbiamo visto che il processo di concia è uno più invasivi all'interno della filiera e quindi la sostenibilità non è tanto solo in chiave di prodotto ma in chiave di scelta di filiera nell'accreditamento della supply chain nella scelta di un fornitore che possa essere sostenibile nei confronti dell'ambiente in cui opera quindi la tecnologia che stiamo utilizzando servirà per raccontare questo al consumatore e perché non diventi un lip service come dicevo prima ci vanno delle fasi di regolamentazione che il legislatore dovrà portare in atto cercare di lavorare tutti verso un common purpose e non essere distonici come stanno facendo oggi all'interno della comunità europea cioè correre tutti alla rincorsa di qualche cosa e cambiare regolamentazioni su ogni singolo paese e cercare di essere sempre più consapevoli che se vogliamo fare un reshoring finalizzato il consumatore deve capire che se vuole ottenere un qualche cosa questo qualcosa va pagato al giusto prezzo e quindi non possiamo pensare di cambiare 4 o 5 volte gli stessi indumenti andando a a pagare lo stesso lo stesso quantitativo di denaro come se ne utilizzassimo uno è davvero questa penso la descrizione più impattante e pratica che possiamo avere rispetto a quello che significa avere un'azione davvero sinergica e pensata e mirata e non improvvisata poi questo è il tema è un'azione di